Sarà dimesso domani un 64enne di Avellino che grazie ad un lavoro multidisciplinare ha avuto una nuova prospettiva di vita, riuscendo ad avere la possibilità di essere inserito nelle liste di attesa per il trapianto del fegato. L'uomo affetto da epatocarcinoma su cirrosi era ricoverato dal 9 maggio presso l'Unità Fegato del Moscati con un quadro clinico critico. L'equip multidisciplinare, composta da professionisti dell'Unità Fegato, dell'Unità Operativa di Gastroenterologia e della Radiologia Interventistica, dopo aver approfondito il caso, ha individuato l'unico percorso per dare al paziente una speranza di sopravvivenza. Le procedure interventistiche seguite hanno avuto tutto buon esito e avendosi eliminato i sanguinamenti che ha bloccato la crescita della massa tumorale, il quadro clinico del 64enne è al momento tale da farlo orientare nella lista degli idoni ad un trapianto epatico salvavita. Dunque, grazie all'impiego compinato di alte professionalità e tecnologie all'avanguardia, l'azienda ospedaliera Moscati ha dato una nuova speranza al 64enne, con la possibilità di essere inserito nelle liste d'attesa e quindi ricevere il trapianto di fegato.